Paolo, qua siamo, vedi? Guarda, girati di là che guardiamo un sodadura, si vede un cazzo però da qua, speriamo di beccare tutto perché non è nero, si vede un po' scuro ma guarda, aspetta un attimo che faccio la 360 gradi qua, bellissima, che così il Mario anziché andare a fare con le pirlate lì, tanto con la gamba lì non gli tira più, non gli tira più quella gamba lì, edi guarda, con lei è il Cazzaniga Merlini, lo vedi lì sotto? Quello è il Cazzaniga Merlini, là in fondo è la grigna, grignetta, orco cane, vedi quello là, invece è il Rifugio Nicola dove andremo a mangiare, il Pappagallo, lo vedi lì? Ecco, il Re Segone, il Re Segone, guarda, guarda il mare di nuvole che c'è sulla pianura, va, colui che c'è davanti è il mio amico Paolo, Paolo, va, vorrei dire che mangeremo il cervo anche per te, bello Paolo, vedrai che ci farà, come ci farà bene, aspetta che prendiamo le racchette e adesso andiamo Paolo, andiamo sulla cresta che andiamo, scendiamo verso il Soda Dura si sprofonda un po' guarda che roba qua, guarda, che bel passaggio a nord-ovest, guarda che spettacolo quel mare di nuvole che c'è là sotto, guarda, ecco, così è bello, vedi? ma adesso che si è aperto con quel mare di nuvole lì che a me mi fanno sbofinchiare, guarda ci sono le nuvole così, chiudiamo guarda la funeria, bello